Prima del concerto all'auditorium, Renzo Arbore ha partecipato a un incontro organizzato al Comune di Sernia. Si è parlato di cultura e del ruolo per molti decisivo che potrebbe giocare nel rilancio non solo dell'economia italiana, ma anche delle realtà più piccole. Purtroppo disse un ministro, disse che la cultura non si mangia, questo qui è sbagliando clamorosamente. Fortunatamente adesso c'è Franceschini che non ha la stessa idea, perché io lo conosco, l'ho conosciuto, e non mi pare che tanto per cominciare ha sovvenzionato il jazz, che è un'eccellenza italiana e nessuno lo sa. Non è solo il jazz, è la cultura italiana che deve essere esportata. Noi, il resto ce lo stanno cobbacchiando un po' i cinesi, un po' le nuove tecnologie che non ci danno spazio, la tecnologia che va avanti. E noi possiamo vendere il gusto e la cultura. Questo è il nostro grande attu. Al confronto ha partecipato anche Giulio Borrelli, già direttore del Tg1, è stato anche corrispondente dalla sede Rai di New York, seguendo eventi epocali, quali il crollo delle torri gemelle, tre elezioni presidenziali e le guerre in Afghanistan e in Iraq. Io penso che la cultura, come dire, sia l'elemento determinante, perché altrimenti, diciamo, la domanda potrebbe essere fatta al contrario. E se non la cultura, che cosa allora? La cultura è fondamentale perché queste città, questi territori sono ricchi di tradizioni, di storia, e se non riusciamo a valorizzare e a rivalutare queste cose che sono, come dire, nel nostro DNA, perché poi vuol dire non solo storia, tradizione, tutto quello che ci ha abbinato, ma anche un modo di vivere, una qualità della vita che è difficile trovare altrove. Tra una battuta e l'altra, ha dato il suo contributo anche Germano D'Aurelio, per tutti in Duccio. Ai nostri microfoni ha parlato della sua esperienza da assessore alla cultura al comune di Montesilvano. La cultura è come l'agricoltura, sono gli unici mezzi che ci porteranno alla salvezza, secondo me. La nostra cultura, la nostra agricoltura, il nostro Pasqua, eccetera, eccetera. È un discorso che sentiamo fare da tutti, perché i discorsi li sanno fare tutti quanti. Nessuno, diciamo noi, in dialetto si corce le maniche, nel senso che poi, quando bisogna operare sul territorio, io ho fatto l'assessore a Montesilvano, per esempio, e l'ho fatto sulla cultura. Però il problema è che quando si parla di cultura, la frase che di solito si sente anche nell'aula della Giunta, se abbiamo la Chiesa Grande, se abbiamo la Chiesa Grande, se abbiamo la Chiesa Grande, riduce tutto.